Azzurra, puoi venire un attimo con me? Scusate! Devi dirmi qualcosa? Forse lei deve dirmi qualcosa? Cioè, grazie, Nico non parte più, resta con Mattia? Azzurra, cos'hai combinato? Ho fatto quello che avrebbe fatto lei. No, non voglio neanche sapere che cosa. Comunque devi rimettere tutto a posto, chiaro? Cioè, lei prima si lamenta che Nico parte, poi si lamenta che Nico non parte. Io non mi sono mai lamentata e soprattutto non ti ho chiesto di sabotare la sua partenza. E allora la prossima volta cerchi di essere un po' più chiara perché io non ho tutto questo tempo da perdere per lei. Appunto. Senti, Azzurra, io apprezzo moltissimo il tuo interessamento a Nico e a Mattia, ma non dovresti occuparti un po' più della tua partenza? Lei è un ingrata, lo sa? Se hai avuto qualche ripensamento... Ripensamento? Io sto per andare a New York con un uomo, bello, alto, tatuato, Atos, e dovrei ripensarci per rimanere in questo convento con voi. Certo, se tatuato. Appunto. Va bene. Io metto tutto a posto, contenta? Però poi a Mattia ci pensa lei. E... Fum. Ho. 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 .